E' importante che la società civile e le imprese accedano i dati pubblici. Le ricadute sono molteplici per l'innovazione, per la trasparenza e per la prosperità della nostra società. I dati aperti sono un importante strumento per capire l'uso dei fondi pubblici e per combattere il fenomeno del riciclaggio e la criminalità organizzata. I registri in cui sono contenuti questi dati dovrebbero essere pubblicati online affinché tutti possano utilizzarli. La Gran Bretagna ad oggi è uno dei paesi leader nel settore dell'open government.